Come deve fare, Frenzy? Stai sempre girata verso l'invento. Frenzy, sono preoccupata per te, non capisci? Non ho più una casa! Non mi trovi tanto, d'accordo? Non voglio, non voglio, sono tante settimane, siamo chiusi qui dentro e non sono ancora fatta per noi. Sì, sai, io vedi artigli e artigli. Io ho bisogno di scrivere, scrivo per dire, ma vivo per scrivere, e se non posso farlo, tanto vale la pena. Eccolo! 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 Vi va a accettare una storia, ma non posso farlo, ma non potrai scrivere la scada giudica? Oh, mamma mia città! Io non c'ho la storia, lecchi! Io non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno!